Invisibili, dimenticati. È facile perdere di vista coloro che sono rinchiusi, lontano dalla nostra società. Migranti. Presentato in Salaviglione a Palazzo Lascaris, il rapporto Norme e Normalità, standard per la privazione della libertà delle persone migranti. A differenza della privazione della libertà in ambito penale, normata dall'ordinamento penitenziario, la detenzione amministrativa delle persone migranti non prevede garanzie certe e uniformi sul territorio, dal momento che non esiste un testo unitario e nemmeno prescrizioni legislative assimilabili a quelle dell'ambito penale. Per questo il Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti è stato incaricato di definire ed elaborare degli standard nazionali sulla privazione della libertà delle persone migranti. All'evento di presentazione del rapporto, organizzato e moderato dal Garante Regionale delle Persone Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà, Bruno Mellano, sono intervenuti la docente Laura Scomparin, ordinaria di diritto processuale penale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, l'avvocato Guido Savio dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Emilia Rossi e Massimiliano Bagaglini, rispettivamente componente funzionario dell'Ufficio della Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. Il volume raccoglie tutte le raccomandazioni che il Garante Nazionale ha indirizzato al Ministero dell'Interno su questa materia. Il Garante invia alle autorità competenti dei rapporti, i rapporti sono tenuti sotto embargo, cioè sono segreti per 30 giorni e poi vengono pubblicati sul sito. Quindi possono essere eletti da chiunque, anche dal cittadino comune. Noi abbiamo sul Piemonte un evento specifico che è il CPR, il Centro per i Rifugiati, che è il più grande in Italia, su cui siamo operativi quotidianamente con il Garante Comunale di Torino, come Garante Regionale e come Garante Nazionale. Le raccomandazioni che abbiamo presentato sono uno strumento utile per noi che monitoriamo la situazione, ma anche per gli operatori della Questura e della Prefettura affinché sappiano quali sono, secondo noi, i punti critici, i punti sensibili da monitorare, da valutare, da implementare.